Le urne si aprono in Moldavia questa domenica. I cittadini sono chiamati a rinnovare il Parlamento in questo piccolo stato di appena 3 milioni e mezzo di abitanti che dal 2013 resta conteso tra l'influenza dell'Unione Europea e quella ancora esercitata da Mosca. La maggioranza potrebbe andare stavolta ai socialisti filorussi del presidente Igor Dodon. Dati per favoriti dal momento che i consensi per il Partito Democratico, filoeuropeista e attualmente al governo sono in caduta libera per via dei sospetti di corruzione. C'è poi il blocco d'opposizione guidato dall'ex ministro per l'istruzione Maya Sandu che nel 2017 sembrò quasi in procinto di diventare presidente. Secondo i sondaggi il raggruppamento da lei guidato, denominato ACUM e di indirizzo europeista dovrebbe arrivare terzo. Tra i problemi più urgenti che il nuovo Parlamento dovrà affrontare c'è lo spopolamento che negli ultimi anni ha colpito il Paese, uno dei più poveri d'Europa. Nei giorni scorsi decine di paia di scarpe sono state lasciate sull'asfalto a simboleggiare le centinaia di giovani che negli ultimi anni sono stati costretti a emigrare.